Sono d'accordo che le due politiche non sono avverse, però non si può partire soltanto da una lasciando perdere l'altra. Ricordo oltretutto che il sistema di ammortizzatori sociali che c'era nel nostro paese, anche con la Cassa Integrazione Inderoga, garantiva anche a tutte quelle categorie che non avevano diritti di tutele, fatto dal centrodestra, delle tutele sì, ma sempre collegate al lavoro e al posto di lavoro. Si è voluto smantellare con la Fornero quel sistema, è andato avanti con Letta e Renzi smantellando quelle tutele e adesso ci vengono a presentare e abbiamo la soluzione per risolvere il problema della disoccupazione o di chi ha basso reddito. Non può essere così, bisogna collegarlo al posto di lavoro.